Da quanto tempo è che non avete un rapporto sessuale completo? Dunque... Una commedia d'amore molto poco romantica che si autodefinisce l'antimoccia e mette alla berlina ipocrisia e note dolenti del nostro tempo con tanta ironia e un buon ritmo. Valore aggiunto, un cast di attori particolarmente azzeccato, con tanti volti nuovi che non sfigurano accanto ai più esperti e la capacità di mantenersi sul livello di sana ironia che non precipita mai in una gratuita volgarità. Beh, vabbè, non è una storia bellissima.